Giovanni Malagò, 58 anni, romano, romanista, due figlie con l'attrice Lucrezia Lante della Rover, laureato in economia, imprenditore, dirigente sportivo, ex giocatore professionista di calcio a 5, ha giocato i mondiali, vinto tre scudetti, quattro Coppa Italia, presidente del CONI dal 2013, del circolo Canottieri Anieri dal 1997, un vincente che ha perso con la raggi sulle Olimpiadi. Allora, presidente, l'uomo che ha perso con la raggi sulle Olimpiadi, ci sta come definizione? No, non ci sta perché in realtà è una partita che non si è giocata, abbiamo tutta la possibilità di farla, però se uno la vuole leggere così va bene. Ma l'ha digerita? No, direi che è una ferita che... Brucia ancora? Eh sì, non c'è dubbio, ma soprattutto io credo che il presidente del Comitato Olimpico non può non difendere le Olimpiadi, questo è un dato di fatto. Sì, comunque, insomma, brucia. La ferita è molto grossa. Senta, ma è vero che ha pianto quando ho saputo che non c'era più niente da fare? C'è stata una conferenza stampa in cui sicuramente mi sono venute delle lacrime, ma erano assolutamente condivise. Di gioia, no, di dolore. Oh, non penso ci mancherebbe, però è la vita, non c'era niente da nascondere. Vabbè, senta, tosta però la raggi, si è aspettata così tosta? Ah no, che la raggi sia tosta non c'è un mare di dubbio. Se l'aspettava così tosta? No, non mi aspettavo che non ci fosse la possibilità neanche di interlocuire e di spiegare il progetto. Senta, ma da allora non avete mai più parlato? Ci siamo incontrati in un paio di occasioni, però non abbiamo mai parlato. Salutati, senza baci. Sì, senza baci. Con educazione assoluta, questo ci mancherebbe, però non è che è stata una questione voluta. Però è vero che era un affare a rischio? No, non era un affare a rischio perché sono cambiate le regole del gioco. Senta però i numeri che ci dà la raggi, poi ne parliamo. Rispetto ai costi preventivati, praticamente tutte le Olimpiadi prese in considerazione hanno avuto uno sforamento, quasi tutte di oltre il 50%, molte addirittura di oltre il 100%. Montreal ha avuto un incremento del 720%, Barcellona del 266%, Atlanta del 151%, Sydney del 90%. Le Olimpiadi, in pratica, sono una sorta di assegno in bianco. Ecco, non sono numeri della raggi, però sono numeri di uno studio dell'Università di Oxford. Sono veri o no? Dunque, sono in parte veri, comunque parliamo di competizioni olimpiche, alcune avvenute 50-60 anni fa, molti altri casi invece non ci sono stati questi sforamenti, ma soprattutto quello che volevamo spiegare è che quel tipo di dinamica e di candidatura non esiste più, ma soprattutto... È cambiato il contesto, insomma. Non solo è cambiato il contesto, perché si trattava di fare opere temporanee, di utilizzare quelle che c'erano e per la prima volta il CIO donava, sosteneva 1 miliardo e 700 milioni di dollari a chi avrebbe vinto la competizione. Poi, a noi quello che andava bene è che la raggi e magari la sua squadra si sarebbero potuti occupare e verificare le garanzia. Insomma, comunque, quei numeri lì non sono contestabili, saranno antichi, ma sono veri. Ma poi, se qualcuno ha sbagliato nel passato, questo non vuol dire che non deve riprovarci. Naturalmente, è questo ovvio. Comunque, l'altra sera, al suo famoso circo, la Niene, di cui è Presidente, a Roma c'era il grillino Marcello De Vito, un segno di pace con i 5 Stelle, eh? Ma guardi, io sono una persona doverosamente istituzionale. All'Aniene c'è un'iniziativa che una volta al mese una fondazione a Roma Europea invita dei personaggi a parlare. E di conseguenza era giusto... Toccava il grillino. Va bene, De Vito ha detto, noi non siamo contro le grandi opere, però siamo contro i grandi sprechi. Insomma, per loro le Olimpiadi alla fine erano un grande spreco. Voi dove avete sbagliato qualcosa? Almeno nella comunicazione l'avrete sbagliata. Noi abbiamo sbagliato il contesto storico. È molto semplice, cioè, le Olimpiadi, la candidatura l'avevamo acquisita e poi dopo due anni ce l'ho detto fermate tutto quanto. Non è che abbiamo nel frattempo cambiato qualche cosa. Senta, però, però, quando ha detto no il governo Monti, che aveva detto un no chiarissimo, tutti hanno applaudito perché bisognava risparmiare, c'era l'austerity. Invece il no della Raggi è stata una tragedia. Sono passati solo due anni. Perché è una tragedia? Beh, ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è che, logicamente, il governo doveva mettere le garanzie economiche. In questo caso l'aveva già date. E il secondo è che il governo Monti ancora andava alla competizione con le vecchie regole del gioco che imponevano praticamente una candidatura importante con opere probabilmente... Da fare. Esatto. Importante. Senta, ma non le sembra però che c'è stato un accanimento mediatico contro la Raggi? Ma guardi, mi sembra che ci sono molti accanimenti in giro, a prescindere dalla Raggi. Su tante persone, va bene. Vedremo di capire quali. Intanto la legge di stabilità aveva stanziato 2 milioni di euro per il 2016 e 8 per il 2017 per il comitato promotore delle Olimpiadi. Che fine hanno fatto quei soldi? Ogni candidatura richiede un investimento. Sono 4 anni di lavoro. Noi l'abbiamo interrotto tutto nel 2017. No, no, è tutto online, è tutto dimostrato. Sì, ma chiedo... Buona parte di quei costi sono stati ammortizzati. E' stato fermata tutta la macchina nel momento esatto in cui la Raggi ha detto di fermare. Quindi le avete in tasca? Assolutamente. Quindi sono recuperabili? Sì, sono messi in un fondo che si chiama Sport e Periferia e che sono andati per realizzare degli impianti in zone che ne hanno bisogno. Ah, quindi già spesi? Beh, sono state individuate le zone, bisogna fare adesso gli appalti per logicamente realizzare le opere. Oggi, visto che Roma non c'è più, qual è la sua città che pensa che vincerà? Ma guardi, sono rimaste due, Parigi e Los Angeles. E chi pensa? E' inelegante che il Presidente del Comitato dell'Empio italiano dica a chi vuole che vinca. L'unica cosa è che se uno si ha aspirazioni, diciamo, in futuro è preferibile che non vada in Europa, però è anche vero che indubbiamente ci sono degli elementi, diciamo, recenti... Insomma, Parigi è più vicina. Senta, ma lo stop della candidatura di Roma pregiudica future candidature italiane o no? Beh, indubbiamente la credibilità della città sul Comitato dell'Empio internazionale è quella che è. È a zero. La credibilità del Paese credo che sia ancora molto buona e lo dimostra il fatto che hanno accettato molto fervolmente, diciamo, di ospitare, meno questa è la competizione che si aggiudicherà a Lima a settembre 2017, una sessione del CIO, che è il momento in cui, diciamo, tutti i grandi della terra che si occupano di sport verranno a parlarne. Ma è di questo che Sale e Maroni dicono che si candidano, che candidano a Milano per fare cosa? Sale e Maroni partono a presupposto che vorrebbero che Milano diventi una candidatura olimpica per il futuro, ma proprio per questo, in teoria, forse sarebbe meglio che non... Che fosse l'Osaggio. Però, ovviamente, bisogna aspettare a settembre a vedere quello che succede. Vedremo, vedremo. Senta, Presidente Malagò, Malaraggi, sindaco, finora lei che voto dà? Insomma, diciamo che bisogna un attimo verificare... Ma dia un voto, forza! Il voto? Beh, insomma, la sufficienza è difficile darla, però è anche vero... No, 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 io non do voti, è inelegante, però è anche vero, è anche vero che gli è successo un po' di tutto. Io credo che non sia un alibi... Vabbè, non è la sufficienza. Guardi, io parto da un presunto... Ma vabbè, no, 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 però per me questo è importante. Non so, per me questo è importante. Io da romano tifo che la mia città risolve il suo problema. Va bene, questo naturalmente. Senta, lei ha fatto la rivoluzione al Coni, ha rottamato più o meno 25 capi di federazione su 60, non sono solo capi, ma insomma, più o meno, per capirci. Non funzionava più nulla nello sport? No, che contrariamente a quello che succede da altre parti, nel mondo dello sport c'è una fortissima, diciamo, rappresentanza democratica. Quindi c'è un grande ricambio. E quindi credo in parte anche dovuto a quella che è stata la mia avventura quando sono stato eletto. Molti ci hanno provato, c'è stato ricambio generazionale, è un bene. Insomma, e lei rottamato? Mancato non c'è ancora vincolo di mandato, che è una legge che noi ci stiamo aspettando e che questo fa capire che c'è sicuramente un'opportunità di ricambio anche in futuro. Ma io non ho rottamato nessuno, sono gli elettori delle singole federazioni che l'hanno fatto. D'accordo, però ha rottamato più lei di Renzi, per interposta persona, diciamo. Ma se uno la vede su basi statistiche forse sì. Eh, forse sì. Senta, ma lei conosce bene Renzi. Senta cosa mi ha detto di se stesso, non faccia faccia qua. Il peggior difetto qual è? Talvolta troppo cattivo? È come lo combattere? Un po' arrogante e talvolta anche impulsivo, se no non l'avrei risposto così. È così lui, davvero? Eh sì, penso di sì. Però le voglio dire una cosa, guardi che in privato, coraggioso, realista, devo dire la verità che in privato è il primo a riconoscere questi difetti, per cui su questo bisogna dare grande sincerità. Qual è il suo peggior difetto? Sono forse un po' troppo esigente. Troppo esigente un difetto? Beh sì, perché alla fine mi rendo conto che forse anche tutte le persone che mi stanno vicino forse le esasperano un pochino. Per uno che fa il manager è una qualità. Sì, però è complicato. Vabbè, ho capito, non parliamo del suo difetto. Senta, ha perso il referendum anche per questo carattere, Renzi, secondo lei? No, io penso che ha perso il referendum perché nel momento in cui l'ha indetto o ha pensato appunto di sostenerlo, le condizioni erano diverse. Quando si è reso conto che a quel punto la cosa si è complicata, la macchina della partita era troppo tardia. Cioè, è come le Olimpiadi, insomma, più o meno. Senta, ma ce la farà tornare a Palazzo Chici oppure no? È una bella domanda. È una bella domanda. E la risposta? È 1x2. 1x2, ah, proprio così. Ma lei se lo augura? No, io mi auguro che ci sia un governo stabile per 5 anni. Sì, ma se lo augura che torni a Renzi? Ma a livello personale, Renzi, secondo me, è una persona che onestamente ha i requisiti per fare presente al Consiglio. Senta, intanto il braccio destro di Renzi. Luca Lotti è il ministro dello sport, cioè il suo ministro. E com'è? Ma io, Luca Lotti, gli devo dire grazie. Gli devo dire grazie perché è una persona molto attenta e sensibile alle istanze del nostro mondo. Ma non lo è stato adesso, caro ministro. Perché anche prima, quando aveva la Della che è stato sottosegretario, personalmente il mondo dello sport non può che essergli riconoscente. Senta, ma doveva dimettersi o no? Mi faccio questa domanda perché onestamente... Io personalmente penso che non si do assolutamente dimettersi. Perché? Ma perché le dinamiche che mi sembra che hanno portato, diciamo, a far partire chiacchiere e pettegolezzi non sono tali da portare a far dimettere Luca Lotti. La scuola di Gianniletta qui è fantastica in lei. No, sono sincero. No, si vede proprio. Sono sincero, guardi, lo penso veramente. Senta, ma parliamo di calcio. Alla fine si farà o no lo stadio di Roma? Ma io penso che lo stadio si farà. Si farà. Quando? Spero il prima possibile. Ho sempre tifato che si faccia. Ovviamente da, diciamo, proprietario dello stadio Olimpico, che perdiamo un grande cliente come la Roma, così come mi auguro che lo possa fare a Lazio e tutte le altre società di Serie A. Ma proprio sullo stadio da Roma voglio dire una cosa fondamentale. Ecco, quello che è successo nella vicenda del progetto stadio da Roma è esattamente la dimostrazione che noi non abbiamo avuto lo stesso trattamento. Perché lo stadio da Roma... E lì alla fine ha detto sì. No, non è che ha detto sì. C'era un progetto. È stato assolutamente cambiato. Adesso lo sentiamo. Sravolto. Modificato. Si sono incontrati per giorni, per settimane, per mesi, conferenze e servizi. Mentre nel caso dell'Olimpiadi, che noi abbiamo detto, senti, facci sapere dove vuoi mettere il villaggio, quali tipi... Vabbè, non ha voluto parlarle. Eh, ho capito, ho capito la differenza. Senta, ma la bocciatura della sovraintendenza potrebbe fermare tutto? Non lo so, è una cosa molto tecnica con le sovraintendenze, è difficile dare giudizi. Senta, senta cosa mi ha detto l'ex sindaco di Roma, Marino, sullo stadio. La Raggi può con soddisfazione dire che ha approvato il progetto iniziale dei costruttori che la Giunta Marino aveva bocciato. La Raggi ha cancellato tutte quelle opere di interesse pubblico che noi avevamo preteso fortemente e che avevamo ottenuto. Insomma, tanto rumore per nulla, poi alla fine. Lì c'è una legge che consente di, diciamo, avere certe idee con certe opportunità, che però parta dal presupposto dell'interesse pubblico. Lo stadio della Roma per me è una cosa positiva, ribadisco come prea... Però questo progetto è il progetto dei palazzinari senza le infrastrutture. Tanto più levi incubature, tanto più levi investimenti pubblici. Una premessa, lo stadio della Roma è per una società privata, votata in borsa. La candidatura delle Olimpiadi era ovviamente un discorso pubblico. Senta, ma a proposito di calcio, oggi la Juve è al centro dello scandalo del presunto rapporto con l'Andrangheta. Il direttore generale della Federcalcio dice che è un processo mediatico contro la Juve. Ha ragione o torto? Guardi, Michele Muva è una persona che io stimo, è un ottimo manager. Però, secondo me, chi è un dirigente non deve entrare... Era meglio che stesse zitto? No, non deve entrare proprio nei giudizi tutto quello che logicamente è l'antimafia perché l'argomento è talmente delicato e talmente oggettivamente... Quindi era meglio se stava zitto? Ma questo è meglio che stia zitto anche lei e anche il sottoscritto? No, no, vabbè, io non sto zitto, io faccio domande. Senta, però la Bindi, che è Presidente della Commissione Antimafia, dice che è sbagliato sottovalutare le infiltrazioni mafiose in tutto lo sport italiano. Molto precisa. Le risultano? Sì, ma guardi, noi abbiamo una procura generale del CONI che viene attivata ogni volta che c'è un minimo di segnalazione. Io sono un funzionario pubblico, come qualcuno, non solo nel caso di infiltrazioni mafiose e qualsiasi tipo di problematica, dico, guardi, piano di sotto, il generale Cataldi parla con lui. Però, attenzione, io credo che l'interpretazione della Bindi è che anche lo sport, come tutti gli altri settori, possono, hanno... Rischiano. Senta, però il giudice Calabro, che è il Presidente della Commissione Rischi della Federazione, dice che lo Stato ha abbandonato gli stadi e la loro sicurezza. Ma, molto tosto. Ma, guardi, io credo che... È vero? Io credo che, diciamo, a cavallo degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, sicuramente, diciamo, nelle curve c'erano delle cose che non andavano. Questo è un dato di fatto. Poi addirittura, forse si è passato da un estremo all'altro. Però lui dice anche che nelle curve degli stadi ci sono contatti continui con la criminalità organizzata. Alcuni, voi ne sapete qualcosa o no? Sempre Calabro che parla. No, perché ci tengo a dire che tutto quello è gestito dalle società private con, ovviamente, la sorveglianza di quello che sono le persone. Quindi voi non ne sapete niente in ogni caso? Non siete parti in causa? Molti giornali parlano di tensione fra Gionelkan e Andrea Agnelli a proposito di questa inchiesta. Lei, che è abbastanza amico di famiglia, ne sa qualcosa di queste tensioni o no? A me non risulta, assolutamente. Senta, Alconi, state pensando di commissariare la Lega Calcio? No, perché non lo possiamo fare. Perché? Perché la Lega è un'associazione privata fatta dai signori che sono i proprietari delle squadre o da chi li rappresenta. Quindi non potete. Mentre Alconi è un ente pubblico e ha come suo riferimento la federazione. E la federazione italiana gioco calcio... Ecco, ma la federazione italiana gioco calcio... Deve commissariare se non trovano, diciamo, la soluzione nell'ambito di la propria rappresentante. Quindi pensa che arriveremo al commissario vista dall'alto dove la vede lei. Non è che lo penso. Ci sono rimasti direttamente pochi giorni per trovare, diciamo, le persone da nominare e per, logicamente... Ce la faranno o no? Ho dei dubbi. Bene. Commissario alla Lega Calcio. È vero che le squadre più forti vogliono farsi la loro Lega per spartirsi direttamente i diritti televisivi? No, è vero che le squadre più forti logicamente hanno le sirene da parte di una, diciamo, Lega Europea con i loro, diciamo, cugini, fratelli o sorelle più importanti. Ma pensa che ce la faranno? Ma io mi auguro di no perché ovviamente sarebbe la fine di un certo tipo di calcio. Però capisco perfettamente... Che lo vogliano fare. Ma i diritti TV, quanto sono? Quanto valgono i diritti? In Italia valgono, diciamo, un po' più di un miliardo di euro. E come sono divisi oggi? Nella Inghilterra con la Premier League valgono quasi tre volte tanto. Ma il tema è che in Italia sono, direi, più che buoni i livelli di quello che sono i ricavi a livello nazionale mentre è disastroso tutto il tema invece delle vendite all'estero. Un po' perché la mancanza di appeal nel nostro campionato dovuto oggettivamente a qualche partita di minore interesse un po' perché le dinamiche interne hanno impedito, logicamente, di avere quel tipo di visione. Insomma, anche su questo... È indispensabile dare cultura manageriale alla vendita dei diritti all'estero. Senta, molti dicono che il presidente della Federcalcio, Tavecchio, appunto, quello che deve mettere il commissario, fa solo quello che dice lei. Quindi un pochino lei la saprà, sta storia. Ah, guardi, questa è un'altra di quelle belle favole. Perché Tavecchio ha un bel caratterino e ha una bella personalità. Penso, onestamente, come tutti i presidenti di federazione che ha piacere di interloquire e soprattutto di ascoltare quello che... Viva il democristiano che c'è in lei. Senta. Ma con il cambio di tutti i presidenti delle federazioni di cui abbiamo parlato prima, a Democratico, eccetera, che si sono cambiati da solo, lei non c'entra niente. Però ha organizzato in qualche modo la sua rielizione al presidente del CONI? No, perché teoricamente dovrebbe essere il contrario, perché avendo avuto a disposizione... No, perché avendo a disposizione quattro anni per lavorare con i vecchi presidenti, in teoria era un investimento più sicuro. Sì, però se questi sono un po' suoi, sono più facile. Ma io non l'ho eletti, l'hai eletti la loro rappresentanza. Va bene, ma si ricandiderà? Sì, mi ricandido. Sì. Senta. Ma con quale obiettivo per il prossimo mandato? Mi dica una cosa precisa, però. Quale obiettivo? Continuare a fare buoni risultati sportivi, ma soprattutto quello di cercare, cosa che stiamo facendo, di continuare a fare sport il più possibile al nostro paese. Senta, però, intanto, ci saranno... Dico una cosa semplice, le olimpiadi quelle lì le avete perse, non si può dare... Ci saranno le olimpiadi invernali. Le fate? Voglio dire, le vedremo? Ci saranno? Le Olimpiadi... La RAI le trasmetterà? Cosa capita? Le olimpiadi invernali che sono tra meno di dieci mesi, tra l'altro con grandi aspettative, guardi anche recentissimi risultati. Trionfi delle centrici. che ci sono, eccetera, e in questo momento i diritti sono, diciamo, il capo a Discovery. Cioè, i diritti sono Discovery, la RAI non li ha... Al momento la RAI non ha ancora chiuso il contratto, io faccio tifo che questa venga, perché onestamente avere le olimpiadi... Cioè, rischiamo di non avere le olimpiadi invernali sulla RAI. Cioè, il servizio pubblico non le trasmette. Cioè, questo rischio, mi auguro che non avvenga, sarebbe una cosa non bella. Senta, qual è la cosa di cui è più soddisfatto del mandato che sta per finire, il suo mandato? In un paese in cui ci si divide su tutto, si litiga anche su qualsiasi cosa, il nostro mondo è molto compatto, credo soprattutto le nostre componenti, le benemerite, le discipline sportive, il territorio, le componenti tecniche, gli atleti... Insomma, ha tenuto insieme la baracca. E mi ha detto niente. No, no, dico molto. Dopo le olimpiadi, però, c'era un altro appuntamento mondiale che potrebbe saltare, che era stato più o meno promesso, è quello della Raider Cup di golf, che ha un indotto molto forte di entrate possibile. Salterà o si farà? Noi ci siamo molto adoperati per l'aggiudicazione. Sì. La parte del dossier è stata fatta molto bene, adesso manca non l'erogazione, ma le garanzie. È un fatto assolutamente tecnico. Che le garanzie le deve dare? Ovviamente un provvedimento legislativo. Cioè, chi le deve dare? Il governo che deve provare una norma legislativa che deve essere approvata. Il governo è il ministro o il governo? Il governo è un'entità che lo gente... E lei mi sembra che questo governo stia andando verso queste garanzie? Lei rispondo, il governo ci ha messo la faccia e mi hanno garantito che entro il 15 aprile verrà completato l'interlegislativa. Quindi sì? Cosa che mi auguro. Io ho fiducia. Si farà la Raider Cup, secondo lei. Penso di sì. Senta, ma una sua qualità riconosciuta da tutti anche da se stesso, lo diceva adesso, è quella capacità di relazione, di tenere insieme tutto. È vero? Insomma, se la riconosce questa cosa, no? Sì, ma guardi, non penso che poi nessuno ti regali niente. No, no, non credo che li ha regali. Ma vi faccio una domanda, per esempio, proprio una curiosità personale. Ma in un mondo come quello del suo, della Niene, no? Di questo grandissimo club dove è presidente da vent'anni. Ma c'è un caso di due soci che non si parlano e che lei non è riuscito a mettere d'accordo? E che le dispiace? No, non devo dire la verità. No, ci sta, però onestamente devo dire la verità. È la vita. È la vita. È la vita, assolutamente. Detto questo, penso che per avere le buone relazioni bisogna essere una persona corretta. Questo sicuramente. Senta, lei è presidente della Niene da vent'anni. Da domani, mi sembra, sarà solo presidente onorario. Chi la sostituisce? Allora, da domani divento presidente onorario perché se l'assemblea vorrà formalizzarlo. Mi dica chi la sostituisce. Il candidato è Massimo Fabricini che era già il consigliere allo sport con un consiglio che va in grande continuità. Penso che sia giusto dopo vent'anni. Diciamo che resta tutto in famiglia sostanzialmente. Abbastanza. È una sua interpretazione. Diciamo che il consiglio ha scelto Massimo Fabricini che è un uomo di sport. Cos'era il suo cosa? No, niente. Lavorava a Coni? Dove stava? No, no, si sbaglia. È il fratello. Ah, il fratello. ma uh, che errore. Ok. Non credo che avere un cognome uguale sia... senta, ma il circolaniene continuerà a restare un circolo per soli uomini? Ma questa è una falsa diciamo leggenda. Il circolaniene... Ci sono solo le atlete, le atlete campionesse. Allora, va specificato. Va bene. Allora, diciamo che le donne entrano in virtù dello sport e che fanno. Per soli uomini invece anche con la panza non c'è problema. No, tutti gli anni ne entrano diverse e peraltro, scusi se glielo dico, abbiamo anche delle donne che non sono solo la Pennetta, la Pellegrini, la Idem, la Selsina, eccetera, ma ci sono anche delle atlete normali che fanno sport. È una filosofia che c'è dal 1892 e posso dire una cosa... Ma qual è il vantaggio secondo lei? Perché le strutture, l'organizzazione, diciamo, la tradizione, tutto quanto è legato a questo tipo di impostazione del solitario. Ma non ha mai pensato che è una regola un po' fuori dal mondo, no? No, talmente abbiamo pensato che in virtù di quello che è l'elemento dello sport le donne sono entrate al circolo. Ah, quelle campionesse. Senta, visto dal circolo a Niene, dal suo punto di vista che è un osservatorio molto interessante e particolare, com'è cambiata Roma negli ultimi vent'anni? Cos'è che le ha colpita di più del cambio di Roma? Ma purtroppo è cambiata in peggio, questo è sicuro. La cosa più mi addolora, logicamente, è che appunto non c'è la voglia di rischiare, non c'è coraggio e soprattutto c'è questo disastro del decoro che onestamente per una persona che la pensa non c'è coraggio. E quindi siamo all'insufficienza della raggi questa. Senta, lei, ho letto, lo so, che lei è molto amico di Montezemolo, ma ho letto che dice che la differenza fra voi due è che lei lavora, lui no, è vero? No, questa è un'altra favola. L'altra favola. Guardi, le garantisco che Montezemolo è anche lui uno dello secondorista. Senta, ma lei ha mai pensato di fare sindaco di Roma? No. No. Sicuramente non. Ecco, ma ne vede in giro un adatto? Penso che debba essere un tecnico... Un nome, hai in mente un nome che potrebbe essere adatto? lo possiamo trovare. Penso che debba essere un tecnico fuori dai partiti politici, poi la gente con i supporti dei partiti politici e che non abbia cambiati da pagare da nessuna parte. Senta, Pallotta non ha rinnovato il contratto a Totti, è fatto male? Non so se Francesco voglia rinnovare il contratto. Se lo chiedesse, secondo me farebbe male a non rinnovarlo. E secondo lei glielo chiede? Vorrebbe? Penso che nelle prossime settimane lo deciderà. Io penso che quello che Francesco vuole fare è giusto accontentarlo. Ma è d'accordo con chi dice che Spalletti quest'anno ha umiliato Totti? Penso che Spalletti sia una persona intellettualmente onesta e quando uno fa l'allenatore fa delle scelte che magari viste da fuori anche umanamente sono complicate. Bravissimo lei, è un punto di forchetta su tutto. Senta, Presidente Malagò, lei ha detto che lavora moltissimo e che non ha tempo per sé, me l'ha detto in un'intervista precedente. Senta cosa mi ha detto Cesare Romiti a proposito del tempo perso a lavorare troppo. La cosa che maggiormente mi è mancata mi sono accorto di aver mancato è capire i miei figli, i miei nipoti, vedere come nascevano, come crescevano, chi erano. Io non li conosco, non li ho mai conosciuti. Mi sono privato di una delle gioie più grandi che è una delle gioie più grandi che dà anche il fatto di pensare a un Dio, a pensare a un qualche cosa che ci sarà. È un rischio che corre anche lei o no? Sì, però è un rischio calcolato perché ho fatto una scelta di vita a 54 anni quando le mie figlie sono uscite di casa e sono andata a vivere da un'altra parte e a questo punto onestamente ho investito una quotidianità diversa da quella di prima. Ma lei crede in Dio? Sì. Senta, ma l'amore conta nella sua vita? Sì, certo. È contato molto, conta molto? Sì, certo. Tutt'ora? Senta. Tutt'ora, certo. Senta, quanto? Tanto? Abbastanza. Senta, le faccio un'ultima domanda. Il giubileo della misericordia di Papa Francesco è finito, non si sono fatti grandi opere. Anzi, quasi niente. Sono arrivati milioni di pellegrine e è andato tutto benissimo. Forse sta cambiando qualcosa anche a Roma, però. È andato tutto, sì. Forse sta cambiando, però è andato tutto benissimo ma c'è un problema che manca lavoro. Il mondo dello sport cerca di dare restruzione soprattutto per i giovani che su questo hanno delle grandi aspettative. Senta, Presidente, grazie. Resti con noi questa sera.